E quindi è sempre un po' come tornare a casa, sono sempre atmosfere familiari. I prossimi tre brani che faremo sono brani tratti da un disco mio che è uscito due anni fa e si chiama Volume One, che è un disco volutamente rock che ho voluto dedicare a tutti gli amanti del rock anche per far vedere che anche in Italia volendo si possono fare dei buoni dischi di rock and roll internazionale. E' un disco che comunque potete trovare in giro ordinandolo su iTunes eccetera eccetera e sono cinque brani cantati, cinque brani strumentali. Da sera ve ne facciamo tre, il primo dei quali, faccio come Jimmy Hendrix che parlava e accordava ma non sono bravo come lui purtroppo, il primo dei quali si chiama Who's at your door, che vuol dire chi bussa alla tua porta ed è un brano dedicato come stile, come sound a una grande band inglese che si chiama The Hoon. E sicuramente sono meno famosi dei Modà. E sicuramente sono meno famosi dei modi, come stile, come stile, come stile, come stile, come stile, come stile. E sicuramente sono meno famosi dei modi, come stile, come stile. E sicuramente sono meno famosi dei modi, come stile, come stile. E sicuramente sono meno famosi dei modi, come stile, come stile, come stile. E sicuramente sono meno famosi dei modi, come stile. E sicuramente sono più v Ibri cristo, iniziamo potere, come stile, و pari. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti